Non fu investito ma voleva solo attirare le attenzioni del padre. Il colpo di scena è arrivato questa mattina nell'aula del piano terra del palazzo di giustizia riguardo il procedimento che vede imputato un 57enne residente sul comprensorio per aver investito con l'auto il figlio all'epoca dei fatti minore, cagionandoli un trauma contusivo giudicato guaribile 20 giorni senza prestare necessario soccorso dopo l'incidente. Era il 25 maggio del 2017, l'imputato PDC, le sue iniziali, era a bordo dell'auto mentre il figlio minore in cella alla bici. Quest'ultimo sarebbe stato costretto a sfostarsi a bordo della carreggiata fino a cadere rovinosamente procurandosi quelle ferite. Una ricostruzione dei fatti che ha generato un capo di imputazione abbastanza pesante, oggi completamente smontato, ribaltato, vista la testimonianza resa dal figlio divenuto maggiorenne che dopo anni di tensioni in famiglia ha deciso di vivere con il padre. Sostanzialmente il giovanissimo davanti al giudice Francesca Pinacchio ha spiegato di non aver subito alcun investimento all'epoca dei fatti ma di aver fatto balzare il caso agli occhi della magistratura pur di guadagnarsi l'attenzione e la presa in considerazione da parte del padre, negli ultimi anni finito più volte sotto processo per abusi, il più delle volte scagionato. L'imputato difeso in giudizio delle avvocati Katia Puglielli e Alessandro Margiotto è stato assolto per l'insossistenza del fatto. Siamo soddisfatti per aver fatto emergere la verità per i rapporti che si sono ristabiliti tra un padre che ha pagato tanto, un figlio che ha scelto nel pieno delle sue facoltà di vivere con il nostro assistito, commentano dalla difesa. Al 57enne 2019 fu tolta la patria potestà. La ritrovata intesa tra i due cambia di fatto lo scenario di questo e verosimilmente di altri procedimenti in essere.